Buonasera, siamo a Casale Monferrato, ospiti dell'associazione Amici di Lucia, l'associazione di La Alessandria, si occupa di Parkinson, come la nostra associazione Parkinson e Sport, che ha organizzato questa manifestazione, la manifestazione Bike Riding for Parkinson. Andiamo in bicicletta da Torino a Venezia, da domenica 20 giugno a domenica 27. Siamo partiti questa mattina da Torino al Parco del Valentino. Ci hanno accompagnato gli angeli in moto che ci accompagneranno per tutta la settimana. Gli angeli in moto sono un'associazione che si occupa di trasportare farmaci o piani di cura o qualsiasi bene di necessità a chi non ha la possibilità di muoversi e quindi ha bisogno di un trasporto per qualsiasi cosa. Fantastico, oggi finiamo la prima tappa con l'ospitalità di Casale Monferrato che si offrirà un fantastico aperitivo in centro. Adesso passeremo nel centro bellissimo di Casale che ci hanno detto che è la città più bella del Piemonte per cui noi siamo curiosi di vederla. Finiremo tifando Italia perché l'Italia tifa per noi, per la Bike Riding for Parkinson. Grazie a tutti, buonasera a tutti. E chi siamo noi? Bike Riding for Parkinson Italia! Ci siamo noi? Ci siamo noi? I Parkinsonauti! Ci siamo noi? I Parkinsonauti! Ci siamo noi?